Ancora novità per quanto riguarda la produzione Brioni, perché da comunicazione aziendale arrivata nel primo pomeriggio, gli stabilimenti Vestini riapriranno i battenti, riattivando le attività produttive di Roman Stein e tre siti di Penne, Montebello, Di Bertone e Civitella Casanova lunedì 23 marzo e non più giovedì 19 marzo. Il ritardo dell'apertura è dovuto al fatto che le mascherine KN95 non sono ancora disponibili in fabbrica, seppur arrivati sul suolo italiano, ma in attesa di sdoganamento. Intanto le organizzazioni sindacali, unitamente alle rappresentanze sindacali unitari e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, assicurano la loro vigilanza sull'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali. Tutto questo, continuano le sigle sindacali, in considerazione della situazione particolare del capoluogo Vestino, dove non nonostante possa contare solo l'1% della popolazione totale abruzzese, c'è invece il 16% dei contagiati in Abruzzo. Ma nelle ultime ore sono tanti i dubbi sollevati dai lavoratori sulla riapertura della fabbrica, vista la paura che si sta diffondendo a Penne e nelle zone limitrofe.